con l'intervento finale di stamattina di Paolo Ferrero perché c'è un'assonanza come vedrete tra le cose che ha detto lui e le cose come le ve le propongo io perché è una riflessione su come il sud può diventare sovversivo può diventare sovversivo sovversione è una bella parola per noi dobbiamo recuperare le parole del patrimonio della storia rivoluzionale c'è stata i sovversivi sono stati stigmatizzati dalla pubblicistica quella egemone dalla pubblicistica borghese noi dobbiamo recuperare invece il valore di parole come sovversi sovversione come rivoluzione come che sono per noi una specificazione di quello che noi chiamiamo l'anticapitalismo che non è soltanto contro un sistema economico ma contro un modello di vita e di organizzazione della vita normale di noi tutti allora leggo direttamente l'interrogativo di partenza è il seguente possiamo ancora parlare della questione meridionale oggi nel duemila e ventidue come ne abbiamo parlato lungamente nella seconda metà del novecento e per la verità fino a non pochi anni fa è collegata a questa prima domanda una seconda la soluzione delle difficoltà del sud risiede ancora tutta nello sforzo di recuperare il gap in termini di sviluppo economico di strutture logistiche di servizi sociali con le regioni del centro e del nord Italia io penso che sia sul piano analitico che sul piano delle proposte non si possa più parlare allo stesso modo di come si è parlato lungamente in passato sul piano analitico lo voglio e con brutalità l'affanno del sud non dipende dalla insufficienza dello sviluppo capitalistico in queste nostre regioni e ciò perché l'assetto capitalistico di oggi è diventato oggi come oggi un tutto integrato non è più semplicemente una somma di luoghi produttivi per cui verificato che i siti produttivi veri e propri e che il numero degli addetti nel sud sono minori che nel nord o nel centro Italia se ne ricavava a conclusione che proprio in questo divario si situava il cuore del problema noi non possiamo più ragionare in questo modo per la verità devo anche confessare che non sono affatto convinto che abbia sempre corrisposto alla alla realtà storica la rappresentazione del capitalismo come distinti segmenti specifici di produzione sicuramente era così al tempo di Marx perché la stragrande maggioranza della società era strutturata con relazioni sociali diverse da quelle propriamente capitalistiche e i rapporti capitalistici erano chiaramente distinguibili rispetto a tutto il resto e probabilmente per tutta la fase della libera concorrenza quindi fino alla fine dell'ottocento e anche nell'epoca dell'ascesa del capitalismo monopolistico che è stata la seconda fase della vita del capitalismo poteva avere un qualche fondamento l'idea che i rapporti sociali capitalistici costituissero una realtà specifica nell'insieme della società ma da un certo momento in poi quando il rapporto tra capitalismo e società si è strutturato in ben altri termini le cose sono profondamente cambiate fino agli anni cinquanta e guardando specificamente la realtà italiana ha senso dire che il capitalismo si installava dentro la società ma poi progressivamente l'intera società è divenuta capitalistica e i rapporti economici e i rapporti civili e sociali anche i rapporti culturali anche i sensi comuni che determinano la vita collettiva hanno cominciato a sovrapporsi a divenire un tutt'uno in tal modo anche i luoghi della produzione hanno cominciato a dipendere sempre più dalla configurazione sociale complessiva è un un accenno l'aveva fatto anche ieri Giovanni Russo Spena su questo e hanno cessato cioè di funzionare in autonomia come per il passato si è avviata in altre parole una terza fase della vita del capitalismo che io definirei fase della totalizzazione del rapporto sociale di capitale orbene in questa nuova fase storica nella quale siamo tuttora immersi la rappresentazione del capitalismo per segmenti specifici e distinte filiere produttive non funziona più il capitalismo è un tutto integrato produzione logistica commercio assetti sociali organizzazione della vita civile senso comune saperi cultura eh quel tutto ciò che ci circonda in un determinato tempo e in determinati luoghi procede in interagenza come un tutt'uno per cui detto in maniera più chiara non esiste un capitalismo lombardo un capitalismo piemontese un capitalismo veneto un capitalismo campano un capitalismo siciliano esiste un capitalismo italiano e anzi da qualche tempo e ancora più nel prossimo futuro esisterà un capitalismo soprattutto europeo e per di più in una Europa attraversata lugubremente da una guerra tendenzialmente mondiale oltre che dalla pandemia in ogni caso questo capitalismo si presenta ovunque in Italia e in tutti i paesi sviluppati con poli di attività molto avanzati in determinati luoghi e simmetrici poli di attività meno avanzate o addirittura di produzione obsolete in altri luoghi e voglio sottolineare soprattutto che i luoghi di produzione avanzate i luoghi della produzione obsoleta funzionano in assoluta risonanza tra loro Napoli o anche Salerno sono in affanno perché sono collegate a Milano che corre e Milano corre perché è collegata a Palermo che è Langue e così via questo è il capitalismo del nostro tempo un'unica struttura reticolare a base prevalentemente nazionale ancora a base prevalentemente nazionale pur nell'attuale Unione Europea ma va accolta in questa unità in questo dato unitario la crescente forza degli squilibri tra l'alto e il basso della società viene penalizzata in un modo o nell'altro larghissima parte della cittadinanza ovviamente le classi proletarie soffrono molto di più ma il capitalismo oggi come oggi crea problemi anche alle classi medie e perfino all'insieme delle popolazioni mi riferisco ai problemi drammatici e in continuo aggravamento sul piano ambientale sul piano della qualità della vita oltre che sul piano della stabilità degli status sociali e dei posti di lavoro soprattutto abbiamo di fronte un generalizzato lavoro precario e irregolare è una parallela crisi verticale delle piccole e piccolissime attività artigiane commerciali professionali e agricole una volta l'economia polverizzata il lavoro nero e la disoccupazione di lungo periodo si concentravano quasi esclusivamente in campania nel sud ma oggi vediamo che anche in veneto o in emilia o nella pianura padana c'è un'accelerata scomparsa del lavoro improprio un impressionante pullulare di contratti a termine è un vestoso gonfiarsi delle aree di disoccupazione di non lavoro e in tale quadro vediamo anche un controllo sempre più asfissiante e biegamente caporraresco sulla forza lavoro non vado oltre e ribadisco che oggi dobbiamo pensare al capitalismo come una macchina complessiva la qualcosa impedisce in radice la rappresentazione semplicistica di un mondo di luoghi avanzati e luoghi arretrati il luogo arretrato è l'altra faccia di una stessa medaglia di questo insieme di capitalismo eh ciò ovviamente non significa che le condizioni di sofferenza non siano quantitativamente più intense nel sud significa però che tali sofferenze non dipendono da una presunta carenza di capitalismo bensì affondano la loro ragione d'essere nel modo specifico di funzionare del capitalismo contemporaneo che collega strettamente i luoghi di attivismo forte ai luoghi di attivismo debole le produzioni tecnologicamente avanzate alle produzioni povere e obsolete i luoghi di tenuta economica ai luoghi di marce scienza e di degrado come se ne esce allora non se ne esce affatto qui voglio essere un po' provocatorio dicendo qui al sud come se fosse un gran guadagno vogliamo vivere come a torino che tra l'altro per qualità dell'aria la città più inquinata tra i capoluoghi è presente una cintura urbana molto diversa da sessanta o cinquant'anni fa lì c'è ora una periferia degradata e multietnica che non ha più al suo interno i conati di lotta di classe che c'erano negli anni settanta barriera di milano che è un quartiere di torino e oggi un luogo di disgregazione e disperazione del tutto simile nell'essenziale alle periferie metropolitane del sud si esce dunque dall'affanno del sud solo camminando in inedite direzioni percorrendo strade intrinsecamente radicali e cioè collegando strettamente la sofferenza del mezzogiorno d'italia alla barbarie complessive dei rapporti sociali capitalistici nella presente fase storica se ne esce in altre parole solo ponendo il problema in termini nuovi come il capitalismo è diventato globale così noi dovremmo collocare le vicende del sud dentro il braccio di ferro globale col capitalismo reale del nostro tempo quello che produce le guerre produce la precarietà della vita produce la distruzione dell'ambiente produce la logica mercantile anche nei servizi di assistenza e di cura la sanità per esempio ma non solo è che tende a distruggere anche il concetto di bene comune proprio sul piano giuridico e costituzionale prospetto dunque uno scontro complessivo perché il nodo vero del nostro tempo non è la contraddizione tra sviluppo e sottosviluppo almeno nei paesi a capitalismo avanzato come l'italia bensì quella molta più molto più ottimativo tra capitalismo e vita umana in luogo dell'arido confronto quantitativo tra gli indici economici va posto direttamente il tema del superamento del capitalismo non il semplice superamento dello sviluppo diseguale del capitalismo che poi sarebbe una premessa semplicemente per spostare più in là le dinamiche della disuguaglianza cioè ci deve essere un altro luogo magari fuori dai confini dell'italia che svolga poi l'altra faccia della medaglia quello che invece prospetta è una inimicizia radicale nei confronti del capitalismo in quanto tale nei confronti del primato dei valori di scambio rispetto ai valori d'uso ma parlare di inimicizia radicale col capitalismo significa in concreto spingere per la contrapposizione attiva delle classi popolari alle classi privilegiate declinando l'alternativa tra capitalismo e vita umana come trasformazione globale dell'esistente come nuova società e contemporaneamente come nuova umanità e voglio sottolineare che ha un simile scenario di contrapposizione qui nel sud ci si può forza arrivare in maniera più lineare rispetto ad altri luoghi d'italia dove il movimento operaio tradunionista ovvero i blocchi interclassisti legati alla fase dello sviluppo capitalistico per segmenti ha avuto effettivamente una grande importanza storica la la dico in maniera più semplice nell'ex triangolo industriale milano eh Torino Genova come pure nelle aree di media e piccole industrie del Veneto e del centro Italia permane ancora benché non abbia più basi reali non abbia più basi reali l'immagine del capitalismo che porta progresso poiché effettivamente esso in un passato neppure troppo lontano ha agito anche come leva di promozione sociale nel senso che il figlio dell'operaio poteva veramente diventare dottore e diventava dottore e le famiglie operaie potevano permettersi perfino quindici giorni di vacanza al mare adesso che è tutto cambiato e città come Genova hanno vissuto una deindustrializzazione accelerata e i miracoli dell'imprenditoria veneta non si ripetono rimane comunque la memoria il rimpianto quasi di quel tempo che pure vedeva bassi salari e altissima intensità di sfruttamento così proprio per la persistenza di quel senso comune diviene obiettivamente più difficile arrivare a una consapevole dinamica di nemicizia radicale tra strati subalterni e strati privilegiati or bene il punto è che la memoria che fa velo la memoria che fa velo funziona fortunatamente molto meno nel nostro mezzogiorno nel sud infatti lo spazio di una contrapposizione frontale si presenta più aperto è più aperto esattamente perché c'è stata per lunghi decenni una minore presenza di ciò che qui ho indicato come capitalismo per segmenti si è determinata di conseguenza una minore tenuta del blocco interclassista e ciò lo si è vista anche nell'ultimo grande ciclo di lotte quelli degli anni settanta perché quello è stato l'ultimo grande ciclo di lotte vere che qui da noi sono state molto più di piazza rispetto al nord anche questo veniva ricordato ci sono le esplosioni c'è la possibilità delle esplosioni sono state più disordinate se volete e anche piuttosto confuse questo è vero e tuttavia con una carica di radicalità molto molto forte orbene quello che occorre nell'attuale passaggio storico e arrivo alle conclusioni è di recuperare il filo della spontanea insofferenza del sud e spingerlo spingere questa insofferenza nella giusta direzione tra virgolette ovvero nella contrapposizione all'insieme del capitalismo aggiungo anche che non vedendo più il capitalismo come una roba che sta a milano e l'apparato dello stato come una roba che sta a roma poiché la classe padrona e le classi privilegiate stanno direttamente intorno a noi e parlano i nostri stessi dialetti e perciò ricostruendo anzitutto un conflitto esplicito qui dentro il sud tra classi subalterne e classi privilegiate si potranno forse evitare gli errori di fondo che sono stati fatti dal meridionalismo tradizionale che si è attardato e si attarda ancora in rivendicazione meramente sviluppista e in un contenzioso puramente territoriale hanno pesato molto infatti proprio nelle vicende più recenti del sud un esempio può essere proprio la questione ambientale e la questione dello smaltimento dei rifiuti talune tipiche illusioni tradunionistiche da un lato l'idea che si ci sia comunque un capitalismo razionale più o meno localizzata nel nord del paese cui affidarsi per a superare le arretratezze del sud dall'altro lato che esista ancora nel sud una borghesia illuminata delle professioni della cultura più o meno erede di quella che a Napoli qui in Campania fu decapitata dai Borboni nel 1799 più in generale vorrei sottolineare che nel sud la battaglia contro il capitalismo passa anche per una modifica delle pigrizia delle classi popolari meridionali per la messa in crisi reale della loro tendenza ad affidarsi alle classi dirigenti sia del sud e del centro nord ma invece compreso come proprio le classi dirigenti del sud costituiscano in generale una pesantissima zavorra che mantiene le cose come stanno e fa da tappo per ogni processo di trasformazione reale ovviamente ci sono le eccezioni ma le classi dirigenti del sud nella loro complessità spingono per la conservazione e non per la trasformazione basta leggere la cronaca quotidiana per capire ad esempio quando l'intellettualità meridionale a partire dai baroni universitari e dei grandi tecnici mescoli facilmente il sapere e le prebende e sia tanto desiderosa di onori quando vogliosa di incarichi pubblici retribuite sono dinamiche che solo un robusto tessuto di lotte potrà forse spezzare mi direte ma le lotte sono poche lo so ma quel poco che c'è bisogna tirarlo in una direzione precisa e io dico che un robusto tessuto di lotte se ci arriviamo potrebbe potrebbe costruire pratiche di controllo popolare sul riscatto delle delle condizioni di vita del sud il che significa in altre parole che in ogni lotta in ogni mobilitazione si deve avere la preoccupazione dell'avvertenza cioè si deve certamente perseguire l'obiettivo concreto cioè quella specifica bonifica quello specifico potenziamento del trasporto eh quella specifica difesa del presidio sanitario e via dicendo ma al tempo stesso al tempo stesso bisogna curare con costanza e intelligenza esattamente il protagonismo popolare i processi di auto organizzazione e gli istituti di latente contropotere che nascono nelle lotte nascono nelle lotte non riescono a a consolidarsi ma delle latenze ci sono noi dobbiamo saperle tirare e voglio lo finisco con un esempio che diventa è stato citato da da Patrizia e oggi ieri oggi mi pare eh la la vicenda di Acerra nella vicenda di Acerra noi abbiamo perso perché la lotta è stata rimasta da Acerra ma io credo che quella vicenda quella vicenda di Acerra è stata esemplare perché noi dentro la critica al ciclo dei rifiuti abbiamo immesso progressivamente la critica al ciclo della merce di come la merce viene costruita dentro questa società capitalistica e perciò si è creato anche un distacco troppo forte tra l'ambientalismo normale del non nel mio giardino e l'ambientalismo molto avanzato perché è stata una lotta avanzatissima sia sul piano delle pratiche perché tre anni di occupazione del sito per impedire la costruzione dell'inceneritore e un anno e mezzo dopo che ci fu lo sfondamento di blocchi stradali l'autostrada Napoli Roma è stata bloccata credo otto volte sulla stazione ferroviaria di Napoli la stazione ferroviaria di Acerra è stata bloccata ininterrottamente per tutte le ventiquattro ore per sette mesi cioè una lotta davvero che ha avuto poche eh poche cose simili in tutta Italia ma c'era un contenuto anche politico di quella lotta ecco noi dobbiamo riuscire a costruire la coscienza anticapitalistica senza mai perdere di vista l'obiettivo concreto ma sapendo che oggi come oggi proprio perché il il capitalismo è quella roba tutta generale collegata noi sull'obiettivo concreto dobbiamo saper costruire anche una dinamica di contrapposizione complessiva alla società quindi l'idea parlare di rivoluzione anche in una lotta economica oggi ha più senso che nel passato a presto